E' l'episodio che stava prima, e mo' non sta più. Che bella, che bella, due occhi come il mare, che bella è una stella, sta bella da morire, è stupenda, è sensuale, ma mo' succede scusate, non sa ce l'accia fa, io amo... Scusa, eh, adesso farò un piccolo reclamo, però perché con Marcello non sei stato sul tuo uomo? Eri te, Marcello? No, no, io ero Sergio. Eh no, eh, io ce l'avevo Sergio Ramos. No, ce l'avevo io, io sono il rosso. Non è possibile, eh, grazie al cazzo. Eh, il rosso era Sergio. No, a me non mi aveva selezionato quello. Senti, sei un daltonico di merda, io avevo Sergio, tu Marcello, è quel po' tu. Oh, vabbè, io ce l'avecchino. Sì, sì, sì. Oh, ma avete rotto i coglioni, eh, ma avete proprio sfondato il cazzo. Dicalo, dicalo, Monica, dicalo. Oh, questo è rosso. Oh, ma che cazzo è? Ma questo era rosso. Questo è... Fai un palo da dietro così, stai fuori sei giornate. E' bene che piano piano stanno sfondando i coglioni questi falli, eh. Ti hanno fastidio i falli, particolarmente. No. Porca troia. Eh, è meno grave di quel che sembra. Minimizziamo, minimizziamo sempre. Minimizziamo, tra cinque minuti ne abbiamo presi cinque pure. Ah, non è niente. Non vi preoccupate, sono un rumorino, disse il capitano del Titanic. Vai, 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 vai. No. Quello lì era un GDM bello, un rigore. No. Oh, bella. Questo, Marza, hai già capito? Hai già capito? Lì. Hai visto perché non te l'ha fatto io? Che cazzo. Cioè, io proprio, veramente. Dove stai andando? Perché ti inalberi sui falli? Ma mi dà fastidio. Ma mi interrompono tutta l'azione. Grazie. Dai. Cioè, pare che mi ha fatto un'azione che, cioè, con te non riuscirà mai più. E poi, cioè, dai. Ma che parata è? Gol, dai. È buona. Sì. Sì. Che cazzo. No, questo non è niente. Non è niente. Cioè, è morto. Lo stanno trasportando in obitore. Ci sono i familiari attorno a che piangono. Però non è... Oddio, stavo già preparando il bip per le bestemmie. Gol. Guarda. Guarda che lirito. Perfetto, giusto? Eh, no, ma questa è una carambola che capita spesso, sai, anche nelle partite reali. Capita. Fa parte del gioco. Bello. Anche questo passaggio capita. Sono stanco. Voglio giocare a Windingie Depp. Sì. Ma vai. Vai. Eh. Sì. Che fai f***o. Però vedi Ronaldo qua. Eh. Perché io la passo. Io. Ma vai a fare nel b***o del c***o. No, stai sbagliando tutto. Stai sbagliando tutto. Sì. 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 Dalla a quello. Sì. Te l'ho data, amichione. Ebbè, matto. Rovegano. 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 Vaffanculo. Che ansia, veramente. Cos'è? Che fa? Vai lì, lo guarda, ci parla. Ah. Ah, ecco. Finalmente. No, è un po' come uscire dalla friendzone e avere giustizia su FIFA. Che ho messo. Bella è questa. Ma l'ha scritta Francesco Sole, sai? Cos'è? Un altro rosso. Eeeh, viva il comunismo e la libertà. Che c***o. Vedi questo come va a pisciar. Fammi il fallo. Sto aspettando ancora il fallo. No, non arriva, non arriva. Riven. Sì, mid. No, Riven non è mid, si può anche usare mid, ma è top. Ah, top. Ok, adesso lo so. Le rune per Riven sono AD, AP o cooldown redaction. Che bel gioco che deve essere. Non vedo l'ora di schericare. Mi devi dire qual è, una dei tre. Ah, cooldown redaction mi piace. Sono troppo forte. Sarà per questo che noi non arriviamo mai a fare sette gol, perché iniziamo a giocare così. Sì. Vabbè, ma ci vuole anche della cattiveria agonistica che noi non abbiamo. Cioè, noi siamo un cazzo. Ci frega un cazzo. Sì. Diciamo che vinciamo e basta. Sì. Dalla B, no, alta, volevo fare lo scorpione. Eh, 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 eh. FIFA obiettivi. Sì. Saluto a Giastron che avrà visto tutto questo episodio e della rotta di video. Detto questo, Marza, io adesso so che tu te ne devi andare. Eh sì. Di conseguenza, visto con che consecuzio stigliazzi parlo, vediamo come siamo messi in classifica. Dovremmo, teoricamente, essere stati promossi. No, ci manca un punto. Ci manca un punto e cinque partite, direi che è fatta. Col, 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 no, no. Nel momento in cui siamo in divisione 3, la cosa sarà altrettanto facile fino ad arrivare alla divisione 2. Stop, stop. Divisione 2, per andare in divisione 1, quindi. Che cosa stai dicendo? No, stavo pensando all'anno scorso che non abbiamo avuto problemi fino ad arrivare alla divisione 2. Poi, i primi problemi ci sono stati. Sì. Perciò, quello che sto intendendo è che siamo vicini. Perché stai mescolando le carte? Cazzo, sei un croupier. Siamo molto vicini all'essere lì lì per il 2 a 0 al primo tempo e poi perdere la partita. Sai già che domanda ti devo fare e che risposta? Sarò scemo.